Secondo appuntamento per gli operatori del turismo e gli amministratori del territorio alla scoperta del sistema integrato di accoglienza turistica della marca maceratese. Dopo il primo incontro formativo dello scorso 17 dicembre a Piediripa la seconda tappa si svolgerà lunedì 14 gennaio alle 16.45 nell'auditorium Scarfiotti ex chiesa di Sant'Agostino a Potenza Picena. Con la marca maceratese stiamo realizzando finalmente un progetto di territorio che fa bene a tutti spiega la coordinatrice della rete MAMA Stefania Monteverde. 51 comuni lavorano insieme per una politica di sviluppo comune superando diffidenze e differenze adesso nell'incontro con operatori economici albergatori aziende guide prologo e associazioni prepariamo gli itinerari per accogliere i viaggiatori e i turisti nella nostra bellissima marca un vero progetto di comunità oltre ad illustrare il progetto della marca maceratese il ciclo formativo che prevede una tappa finale a camerino il 28 gennaio è volto alla formazione degli operatori sul tema del turismo esperienziale con focus sulla promozione di esperienze turistiche il branding aziendale e l'ideazione di veri e propri pacchetti turistici grazie a tutti